Benvenuti su un podcast in pretura. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi proseguiamo il processo a carico di Matteo Salvini per i fatti della ONG Open Arms. Signor Presidente, signori del Tribunale, si contesta al Ministro Salvini il reato di sequestro di persona per aver tenuto a bordo di Open Arms i migranti dal 14 al 20 agosto del 2019. Al contempo si considera legittimo e normale che Open Arms, imbarcazione battente bandiera spagnola, abbia tenuto a bordo gli stessi migranti dal giorno 1 al giorno 14 agosto. Quando era evidente a tutti, persino a Malta, che Open aveva il dovere di andare in Spagna, stato di bandiera, dove avrebbe potuto far sbarcare i migranti nel giro di due giorni. Ricordo sin da ora le parole di Malta nei confronti del capo missione Open Arms. Nonostante gli avvertimenti, avete deciso di bighellonare senza tener conto del fatto che siete stati informati che Malta non sbarcherà i vostri migranti. Avete intenzionalmente continuato a procrastinare per mettere ulteriori pressioni su Malta. Si contesta al Ministro Salvini di avere rifiutato di indicare il POS, cioè un posto sicuro, dimenticando che a due ore dall'ingresso nel mare territoriale italiano, e cioè ore 1 e 30 del giorno 15 agosto, in realtà, come risulta nel diario di bordo, è stato dato un POS esattamente alle 3 e 23, due ore dopo l'ingresso in acque territoriali. Di rifiuti ne abbiamo registrati tanti, però non sono del Ministro Salvini. Io farò un intervento molto documentato e dimostrerò che Open Arms ha avuto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti, ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti. Come anticipavo prima, dall'1 al 14 agosto, sceglie di bighellonare, anziché andare al suo stato di bandiera. Il 10 agosto rifiuta la disponibilità di Malta di far sbarcare 39 migranti. Ma quello che io documenterò, e secondo me su questo forse non ci siamo soffermati abbastanza, ma è tutto documentale, sono le opzioni dal 15 al 20 agosto. Vede Presidente, depositerò una memoria di 296 pagine, perché devo documentare, documentare, che dal 15 al 20 agosto, in realtà, Open Arms aveva tantissime soluzioni, e non soltanto forse quelle di cui si è parlato finora, perché credo sia chiaro al Tribunale che in qualsiasi momento un migrante stava male, poteva scendere. C'è qualcosa di più, c'è un varco, c'è un'apertura, c'è una porta sempre aperta che ha creato la guardia costiera. Qual è questa porta aperta? Sono gli unici documenti che troverete allegati alla memoria, perché evidentemente non potevo allegare tanti documenti. Ci sono dei documenti dai quali risulta che c'era un varco che definirei diritti umani, perché giustamente io ho ascoltato le domande del Tribunale quando è stato chiesto, ma a prescindere dalla salute, quindi un gradino più basso della salute, c'era anche attenzione ai diritti umani? Presidente, io documenterò che bastava dichiarare di non adattarsi alla convivenza a bordo per scendere senza controlli. Questo è documentato. Bastava dichiarare soffro di insonni e di stress, non mi adatto, non voglio vivere una situazione di promiscuità, e si scendeva. Quindi non una malattia, badate, qualcosa di diverso. E documenteremo anche quello che successe dal giorno 18 agosto. Open riceve l'ordine di andare in Spagna dalle autorità spagnole e rifiuta. Rifiuta prima il porto di Algeciras, perché è troppo distante. A questo punto viene proposto di essere scortata, le viene proposta la scorta di una mondovedetta italiana, ma lo rifiuta. Le viene proposto un altro porto, più vicino, Palma di Mallorca, e lo rifiuta. Si dirà ma forse è vero che non potevano i migranti affrontare questo nuovo viaggio, se non che risulta gli atti che Creus dichiara che in realtà i migranti potevano, purché andassero con un'altra barca, senza Open. E allora vede, Presidente, io credo che per inquadrare bene questi fatti dobbiamo uscire dalla logica che è tutto un diritto, una cosa è un diritto, una cosa è la pretesa. Credo che esista, lo dico veramente, esiste un diritto allo sbarco, esiste. non esiste un diritto a scegliere se farli sbarcare, dove farli sbarcare, quando farli sbarcare, come farli sbarcare e chi fare sbarcare. Questo è un po' di più. Io soprattutto quest'estate studiando le carte a un certo punto mi sono fatta una domanda ma perché se c'erano tutte queste opzioni, perché c'erano? Open non li ha fatti sbarcare, perché io credo anche, lo dico sempre, quando si fa un processo, si fa una ringa, uno si deve porre tutte le domande, ma se c'era questo varco che aveva aperto la guardia costiera e bastava dire non mi adatto per scendere, se c'era il posto in Spagna, ma perché, perché non li facevano sbarcare? e abbiamo trovato ed è agli atti perché l'abbiamo prodotto la prima udienza, un video che dà una risposta e che sarà il filo conduttore di questo mio intervento perché forse ci dà la risposta che io aspettavo, che io cercavo. È un video in cui alla fine di questa vicenda il 20 agosto si vede un'esplosione di gioia, di entusiasmo a bordo della Open e c'è qualcuno che commenta facendo un video questa gioia, questa esplosione di felicità. Beh, voi cosa vi immaginate? Visto che sono delle Open è stata sequestrata sarà felice perché ha riacquistato la libertà. Chi commenta però ci dice che non erano felici per questo. e stanno contenti non perché chiedono a terra sino perché cagliò il ministro dell'interiore italiano cagliò Salvini. Sono felici non perché sbarcano ma perché è caduto il ministro dell'interno italiano Salvini è caduto. Cioè il 20 agosto Open è felice non perché si sbarca ma perché cagliò Salvini. Chi è che fa questo commento? Un giornalista? No. Questo commento è stato fatto dall'odierna parte civile Oscar Camps. Ed allora documentiamo un po' delle cose che abbiamo detto. Il primo atto del ministro che riuscì in solitudine a sequestrare i migranti reca tre firme. Si tratta del divieto d'ingresso transito e sosta della nave Open Arms nel mare territoriale italiano del giorno 1 agosto 2019 firmato da Salvini Trento e Toninelli. Naturalmente tre firme si contesta solo a Salvini e si contesta sostanzialmente di essersi inventato la sussistenza di elementi che giustificavano questo divieto perché in realtà si dice beh Open Arms ha sempre rispettato tutte le norme che sono previste per i salvataggi non ci poteva essere un sospetto di attività volta al trasferimento illegale di migranti in Italia come si attesta in questo divieto. Si sostiene cioè che Open Arms avrebbe salvato i migranti in particolare adesso parleremo del primo evento imbattendosi del tutto casualmente nel barcone e non ci sarebbe assolutamente stato un accordo un appuntamento con qualcuno che portava questi migranti perché perché le uniche informazioni che aveva ricevuto Open Arms erano state ricevute poche minuti prima da Alarm Phone Alarm Phone è si definisce se voi vedete sul sito un contatto di emergenza in supporto alle operazioni di salvataggio sostanzialmente è un'associazione che segnala quando deve intervenire qualche ONG o altre navi in zona quindi c'è un ONG in zona e viene segnalato un pericolo se non che orari alla mano risulta che è assolutamente impossibile che Open abbia ricevuto notizie da Alan Phone per il semplice fatto che si dirige verso il barcone molte ore prima perché la mail di Alan Phone è delle 15.30 e invece risulta che Open Arms avesse ricevuto precise informazioni di prima e allora chi ha avvisato Open Open Arms è attaccata a Lampedusa dichiara di muoversi foglio 178 diario di bordo il 29 luglio ha come destinazione Lampedusa ma succede qualcosa succede sicuramente qualcosa perché viene cancellata la parola Lampedusa e si cambia destinazione si dirà vabbè può essere benissimo che è successo quello che ha detto Oscar Camps è nata la nipotina eccetera però la cosa strana è che si cambia destinazione e inizia un pendolamento nord sud sud nord nord sud sud nord perché pendolava si può pensare come qualcuno ha sostenuto che nord sud sud nord nord sud sud nord sia una rotta per intercettuare casualmente navi in difficoltà assolutamente no perché noto che la rotta dei barconi con migranti è da sud a nord il che significa che fare sud nord nord sud nord sud sud nord significa viaggiare in parallelo alla rotta dei migranti con ridottissime possibilità di intercetto faccio presente si ricava dal diario di bordo che il radar di Open aveva una portata estremamente limitata 2-3 massimo 4 miglia quindi è chiaramente un pendolamento non per intercettare ma un pendolamento in attesa ma la domanda è in attesa di che alle ore 8 si registra una costata cioè un cambio repentino di destinazione e alle 8 e 30 un cambio di velocità ci dice la Montes in un altro contesto che quando si cambia velocità è rotta è perché si va da qualche parte dove sta andando Open visto che non è possibile che alle 8 del mattino abbia notizie che le vengono date alle 15 e 30 eppure si nota che da quel momento in poi Open ha un impegno ha un impegno urgentissimo un impegno che non può essere rinviato e cosa succede se una persona ha un impegno? se una persona ha un impegno non si può fermare a fare altro ed infatti alle 9 e 34 dal diario di bordo risulta che Open riceve la chiamata dal capitano di Alan Kurdi che chiede aiuto Alan Kurdi chiede di trasferire dei migranti perché evidentemente aveva delle difficoltà le ONG hanno come finalità di aiutare come mai non è stata aiutata Alan Kurdi se in quel momento ancora Open Arms era senza migranti a bordo e non stava facendo assolutamente nulla perché sono le 9 e 34 e perché la segnalazione del barcone secondo i dati ufficiali arriva soltanto alle 15 e 30 perché non ha preso i migranti di Alan Kurdi naturalmente è stato chiesto io l'ho chiesto a Oscar Camps naturalmente un armatore esperto che conosce bene le regole del mare avvocato buongiorno volevo sapere una cosa lo leggo nel diario di bordo il primo agosto voi ricevete una chiamata ad Alan Kurdi ancora non avevate nessuno a bordo e si legge nel diario di bordo che non potete realizzare il transfert perché sussistono non sussistono le condizioni legali per un accordo tra i due capitani la domanda è ma visto che vi chiedevano aiuto e non avevate nessuno a bordo come mai non avete potuto aiutare Alan Kurdi risposta ho capito che la richiesta era di pannolini e cibo naturalmente io ho fatto presente che sapeva perfettamente perché risulta nel diario di bordo che la richiesta era di aiuto poi quando è stato negato l'aiuto hanno chiesto anche pannolini e cibo io ho letto il diario di bordo e allora a questo punto ha cambiato versione Oscar Kamps cambia versione e dice ma non si può fare il transfert senza l'autorizzazione della guardia costiera gli faccio presente che però hanno sempre sostenuto che se c'è pericolo imminente si può fare e allora a questo punto gli chiedo ma scusi se c'era questo pericolo imminente imminente si poteva fare o no questo salvataggio beh sì si poteva fare e allora ma perché non avete salvato le persone a bordo di Alan Kurdi ritorno risposta avevano bisogno di pannolini cioè torniamo alla prima risposta allora Oscar Kamps è inesperto e scambia la richiesta di soccorso con una richiesta di pannolini oppure in quel momento avevano già un impegno e poi abbiamo la seconda accostata la seconda accostata è particolarmente misteriosa perché perché avviene alle 12 quando Open non poteva avere avvistato il barcone perché era 26 miglia e vi ho detto che il radar arrivava massimo a 4 miglia alle 12 non poteva avere avuto indicazioni da Alan Fon che cosa cambia la destinazione non l'avremmo mai saputo ma abbiamo appreso soltanto in udienza soltanto in udienza il 13 5 2022 da parte di Mancini direttore del servizio immigrazioni del ministero dell'interno che in realtà il primo agosto un sommergibile venuti era impegnato nell'operazione mare sicuro e insospettito proprio dal cambio di rotta di Open delle ore 8 e dell'innesto della velocità massima delle 8 e 29 ha cominciato a videoregistrare i movimenti di Open Arms il sommergibile alle ore 12 ha registrato una comunicazione audio sul canale VHF6 tra due soggetti in lingua spagnola attenzione agli orari sono le 12 Open non deve sapere proprio nulla del barcone perché è distante e perché viene avvisata alle 15.30 in questa conversazione si parla di un peschereccio con palangari che sono le caratteristiche esatte del barcone che sarà successivamente avvistato ma alle 12 non si potevano dare queste informazioni perché Alan Forn ancora non sapeva nulla secondo la versione che ci è stata fornita dalla parte civile come mai qualcuno alle 12 parla già del barcone il pubblico ministero ha liquidato il tema dicendo beh ma è irrilevante perché siccome le due persone che parlano magari erano a bordo di Open Arms è irrilevante no forse allora non ci siamo capiti qual è il punto e qual è la gravità stiamo parlando di un orario in cui nessuno doveva sapere della barca con i palangari sfugge all'accusa che uno o due soggetti a bordo sarà stato Carlitos che era a bordo sì ma Carlitos alle 12 perché doveva sapere che c'era un barcone con palangari lontanissimo da andare a prendere non lo poteva sapere a mezzogiorno dunque cambia direzione che è una direzione assolutamente decisiva faccio presente che noi abbiamo appreso di questa comunicazione esclusivamente in aula davanti a questo tribunale nel senato nel tribunale per i reati ministeriali nel parlamento hanno mai saputo mai saputo che alle ore 12 si sapeva già di questa imbarcazione con palangari che sarebbe stata salvata ore dopo a che ora avviene l'avvistamento del barcone come dicevamo prima il radar ha una distanza limitata di avvistamento per cui viene avvistata alle 15 e 10 e viene avvistata Sibadi dopo una serie di spezzate verso est quindi è chiarissimo che non trova il barcone per caso fortuito ma perché disponeva Open di un punto nave su cui ha potuto convergere il bersaglio è stato raggiunto con informazioni precise mentre in aula c'è stato detto che le informazioni sono arrivate da Alarm Phone vero che esiste una mail di Alarm Phone vero che in questa mail si parla del barcone ma attenzione la mail giunge alle ore 15 e 30 20 minuti dopo dell'avvistamento che era alle 15 e 10 molte ore dopo della conversazione che fa cambiare rotte rotta moltissime ore dopo dal cambio direzione e velocità delle 8 del mattino ma vi è di più vi è di più perché in questo c'è stata pure forse un pizzico di sfortuna Alarm quando invia la mail si sbaglia perché indica come posizione Alarm cos'è che deve fare deve indicare alle ONG o altre navi la posizione in cui recuperare eventuali navi in difficoltà lo deve ripeto indicare se la nave è vicina cosa succede che sbaglia e indica una posizione in cui si trovava il barcone con i migranti due ore prima quindi una posizione superata ora se Open veramente avesse seguito le indicazioni di Alarm avremmo visto sul diario di bordo a questo punto che cosa che ovviamente Open avrebbe dovuto fare le manovre indicate per tornare in quella posizione perché se io ho notizie solo da Alarm Alarm mi dice che in una posizione di due ore prima avrei dovuto cambiare rotta invece no Open ignora totalmente le indicazioni di Alarm e non fa nessun cambio quindi avete agli atti la prova che alle ore 15 e 30 viene indicata una posizione superata superata e che Open ignora le indicazioni di Alarm tanto è vero che Alarm a quel punto un quarto d'ora dopo cambia tutto ricambia mail e finalmente dà le indicazioni quando già era tutto finito tutto finito quindi signor presidente io credo che gli orari in questo processo hanno un significato fondamentale perché sappiamo benissimo che una cosa è soccorrere una cosa è prendere appuntamenti una cosa è imbattersi altre cose concordare una consegna allora chi ha dato puntuali informazioni a Open prima di Alarm vede signor presidente il soccorso in mare non è un'operazione fai da te che ognuno si inventa come fare ci sono delle fasi che sono previste che trovano la loro base giuridica nella convenzione di Hamburgo del 1979 e dal piano SAR marittimo nazionale e ci sono tre fasi tre fasi che si devono rispettare prima di prendere a bordo delle persone che sono in mare bisogna verificare se e in quale fase era Open quando incontra il barcone anzi in che fase era il barcone la prima fase che è prevista da queste regole è la fase incerfa incerfa vuol dire fase di incertezza situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona di una nave o di un altro mezzo bene se c'è una barca in condizione di incerfa non si può fare nulla poi c'è la situazione di Alerfa Alerfa è quella situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona o di una nave perché ad esempio è stata ricevuta informazione che l'efficienza operativa del mezzo è menomata ma l'Alerfa è una situazione che non fa ritenere probabile e imminente il pericolo e anche qui si dice Alerfa implica che bisogna attendere non si può prendere a bordo nessuno se la situazione è di Alerfa e allora quando è che si può prendere a bordo qualcuno quando la situazione è destresfa che noi abbiamo chiamato qui di stress c'è destresfa quando si ha ragione di ritenere che ci sia una minaccia di un pericolo grave e imminente un esempio è stata ricevuta notizia che la barca in qualche modo si sta riempendo d'acqua beh lì c'è poco da fare lì si deve intervenire e infatti e infatti cosa dichiara Open Arms quando decide di procedere al trasbordo dei migranti a bordo del barcone acqua sta entrando acqua c'è una fessura c'è un buco e ci sono i motori bloccati quindi stiamo attenti questo è di stress non c'è da attendere non possiamo fare niente acqua 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 c'è tanta acqua se non che in quella zona era un po' questo riferimento che solo i palermitani possono comprendere era un po' come piazza Croci in orario di punta cioè non c'era solo Open c'era il sommergibile venuti la motovedetta Fezzan un velivolo e una Formed Merlin 3 che sorvolava quel tratto di mare quindi in realtà quello che succede è monitorato da una serie di mezzi che sono lì e siamo in grado di capire che cosa effettivamente succedeva in particolare diversamente da quanto sostenuto da Open il velivolo Merlin 3 riporta una situazione che avrebbe imposto l'attesa il velivolo di una Formed effettua un costaggio un costante monitoraggio e riprese fotografiche dell'imparcazione alle ore 9.58 11.47 15.14 17.8 quindi riusciamo a capire bene la situazione e risulta un'indicazione di buona galleggiabilità e addirittura badate una rotta nord e una velocità di percorrenza sostenuta dai 4 agli 8 nodi fino alle 15.14 cosa vuol dire velocità fino alle 15.14 vi ricordate gli orari si dice motori in avaria alle 15.10 vedo la barca piena d'acqua con motori in avaria alle 15.14 ancora andava 8 nodi la presunta avaria è smentita e la barca non è fuori controllo non è fuori controllo perché basta guardare il video e c'ha questa barca ha una capacità di governo e propulsione perfetta c'è anche qualcuno si vede benissimo che manovra verso poppa e questo è sicuro una persona esperta ho visto questo filmato un 23 volte e soprattutto ci sono delle diapositive le diapositive ci dimostrano che il barcone non era fuori controllo e ci sono delle immagini subacquee in cui risultano integri gli assiemi piede ed elica dei due motori fuori bordo non c'era nulla di rotto ma si dirà magari il motore non era rotto ma se c'è un buco vedete il buco io ho visto tutta la giurisprudenza in materia di pericolo imminente se c'è una cosa che garantisce il distresse il buco perché è ovvio se c'è un buco immaginate ognuno di noi magari chi non ha nave si immagina un canottino il canottino con un buco è in distresse cioè c'è poco da discutere e quindi poi lo vedrete quasi sempre quasi sempre viene dichiarato il buco quasi sempre viene dichiarata la fessura c'era o no questo squarcio anche qui udienze udienze squarcio grande tanta acqua poca acqua alla fine fortunatamente perché poi l'onestà intellettuale e io l'ho visto ormai sempre l'onestà intellettuale alla fine emerge a prescindere dalle parti persino il consulente dell'accusa è venuto qui e ha detto era una chiazza di colore diverso non c'era buco non c'era acqua non c'era nulla motori che andavano alla massima velocità imbarcazione integra non c'era di stress infine giusto per completare a bordo dell'imbarcazione era disponibile un telefono satellitare Turaia non so se conoscete i Turaia i Turaia sono dei telefoni dei dispositivi che hanno il GPS integrato con il quale è possibile determinare le coordinate geografiche di posizione il calcolo della distanza e della direzione e memorizzare la posizione inviando la via SMS ed allora in sintesi abbiamo un'imbarcazione che nessuno può dire che è inidonea perché era idonea a raggiungere quel tipo di obiettivo perché l'obiettivo era andare lì andare in quella zona dall'altra parte abbiamo che alle otto e mezza cambia direzione open e alle dodici riceve notizie alla luce di queste informazioni credo che se stiamo attenti agli orari e alle mail risulta evidente che non c'è un incontro occasionale che non c'è assolutamente un distress ma che c'è un appuntamento è stato anche sostenuto che open tentò in vano di avvisare la Libia di quel salvataggio e che la prova sarebbe che nel diario di bordo ci sta scritto abbiamo tentato eccetera se non che il sommergibile che era a breve distanza molto vicino e che ha ricevuto una serie di messaggi non capta la ricezione del messaggio di soccorso che open sostiene di avere mandato mi sembra evidente alla luce di queste prime considerazioni che quando il provvedimento di divieto sosteneva che c'era un'intenzione di porre in essere un'attività volta al trasferimento illegale dei migranti quel provvedimento aveva colto nel segno c'è un capitolo nella memoria che qui sarebbe troppo lungo illustrare nel quale spieghiamo il sistema di monitoraggio in tempo reale che c'era al ministero dell'interno e che ha permesso di ricevere una serie di informazioni l'una dopo l'altra sia dal velivolo di cui parlavo prima quindi quelle fotografie in rapida successione sia le indicazioni relative alla rotta e quando in quel provvedimento si parla di un modus procedendi già esistente si fa riferimento al fatto che non era la prima volta che le ONG ponevano in essere questo tipo di condotta per tutti i dettagli sul provvedimento rinvio al capitolo della memoria seguire il percorso di Open sul secondo evento purtroppo non ho le stesse informazioni che ho sul primo perché cioè venuti una se ne trova non c'erano tante venuti sparse e quindi non posso dare delle indicazioni precise io non parlo se non ho indicazioni precise possiamo soltanto dire che tanto il primo quanto il secondo evento sono stati effettuati in autonomia in zona sarlibica e ovviamente in autonomia non significa è vivo sei bravo hai fatto le cose in autonomia fare i salvataggi i trasbordi in autonomia è assolutamente vietato perché le linee guida sull'applicazione della convenzione SAR prescrivono al comandante di prendere contatto con l'autorità SAR competente per territorio e di rispettare le richieste del governo responsabile e in questo caso avrebbe dovuto farlo anche perché non c'era una situazione di distress l'obiezione che c'è stata fatta è che la Libia in realtà avrebbe potuto massacrare i migranti io vorrei fare presente che esiste anche la legge cioè tra le varie cose di cui tener conto che esistono le convenzioni che esistono le conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles in data 28 giugno 2018 dove è stato annotato che tutte le navi operanti nel Mediterraneo sono tenute a rispettare le leggi applicabili e a non interferire con le operazioni della guardia costiera libica può piacere o non piacere ma questo esiste il 2 agosto c'è questo secondo intervento ma siamo al 2 agosto presidente presidente dopo che fa questo trasbordo a questo punto a tanti migranti a bordo batte bandiera spagnola perché il 2 agosto open non va in Spagna e vicina anche alla Tunisia e qui inizia un altro pendolamento avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro condizioni meteo ottime i porti erano a distanza di due giorni due giorni giorno 3 cosa fa open avanti e indietro avanti e indietro avanti e indietro giorno 4 cosa fa open avanti e indietro avanti e indietro è così il 5 il 6 il 7 l'8 e il 9 poi c'è il trasbordo il cosiddetto terzo evento faccio presente che io vi ho letto all'inizio del mio intervento che anche Malta si era resa conto di questa condotta di open e ci sono tante mail che per ragioni di tempo naturalmente non leggo un'altra che credo sia eloquente è quella in cui si dice cara signora Montes in riferimento alla sua richiesta deve prendere nota della nostra risposta di ieri tuttavia ripete il termine usato nell'altra mail lei ha scelto di continuare a bigollonare senza intraprendere azioni immediate per evitare tutto questo e il tenente in servizio presso la stazione navale della guardia di finanza di Palermo a Nedda dice che è chiaro che i primi due interventi sono stati fatti sottrendosi al coordinamento dello stato competente in quell'area e che si stava aspettando l'esito di un ricorso legittimo al provvedimento interministeriale ma in questa condotta di attesa io ravvedo ho ravvisato ho scritto che ravvedevo un'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché comunque in maniera ostinata l'imbarcazione si era messa in una condizione tale che o era Lampedusa o non poteva essere nessun altro posto ostinata bighellonando o bighellonando intanto Open incrocia tantissimi tantissimi mezzi che le chiedono hai bisogno di qualcosa 736 sorvolata da un aereo militare una petroliera appartenente all'operazione una Formed Sofia riceve una chiamata da Moonbird aereo di ricognizione Sea Watch altro aereo spagnolo altri aerei militari passa Ocean Viking e dice hai bisogno di qualcosa non hanno bisogno di nulla sono in attesa c'è stato detto che bighellonava perché l'Italia non era stata chiara quando aveva notificato il divieto di transito e sosta ora a parte che la parola divieto per carità non so in spagnolo come fa però se c'è scritto divieto più o meno si capisce che è qualcosa che non devi fare però si continua a sostenere e l'hanno fatto un po' tutti i test i testi Mark Ray Creus Annabel Montes Oscar Camps Riccardo Gatti hanno tutti detto ma noi in quella fase bighellonavamo cioè stavamo lì perché eravamo in attesa di una risposta dall'Italia certo potevamo andare in Spagna ma perché andare in Spagna se l'Italia non era stata chiara quindi praticamente avete sbagliato non dovevate scrivere divieto serviva qualcosa di più eclatante fatto sta che è assolutamente non corrispondente a quello che risulta agli atti quanto dichiarato perché in realtà era chiarissima a Open la volontà dell'Italia di porre un divieto perché risulta in tutti gli iscritti difensivi degli avvocati che sono ovviamente scritti della Open Arms in cui si continua a dire che c'è un grave pregiudizio perché non viene autorizzato lo sbarco dall'Italia e allora se i tuoi avvocati dicono che non viene autorizzato lo sbarco dell'Italia hai capito o no che non era autorizzato lo sbarco dall'Italia quindi non ci si venga a dire che non era chiaro quel divieto e passiamo al terzo evento come dicevo Presidente io sul primo ho tante informazioni sul secondo il terzo di meno però qualcosa sul terzo ho solito modus procedendi questa frase è quella che poi c'è nel divieto è la notte tra il 9 e il 10 agosto però tecnicamente dobbiamo parlare del 10 agosto perché ovviamente era passata alla mezzanotte Open stiamo parlando di un evento che avviene in acque territoriali maltesi dichiara che c'è una imbarcazione come al solito in distress quindi pericolo imminente minaccia non si può aspettare e viene segnalato anche nel diario di bordo però in realtà si parla di distress ma ECO3 allora vabbè il tribunale lo sa ECO3 e ECO1 sono le due imbarcazioni che sono di servizio rispetto all'Open Arms e che sono quelle che vengono utilizzate per andare presso i barconi a prendere i migranti quindi ECO3 comunica che la barca in legno con approssimativamente 40 persone è poco inclinata e apparentemente in buono stato e comunica anche che non esiste traccia di perdita d'acqua e si dice a Malta c'è la comunicazione abbiamo trovato un'imbarcazione in queste condizioni ovviamente Malta visto che non c'è acqua che entra è apparentemente in buono stato dice non devi procedere al salvataggio perché non è un distress però puoi dare se vuoi intanto i giubbotti di salvataggio io prego il tribunale di guardare cosa succede nei successivi dieci minuti improvvisamente questa era un'imbarcazione che abbiamo detto che non imbarcava acqua era perfetta improvvisamente all'1.05 la barca di legno sta imbarcando acqua c'è una falla e qualche minuto dopo anzi ci sono tantissime forature cioè la stessa barca che prima non era in distress Malta dice guarda che non è in distress improvvisamente viene dichiarato che praticamente è un colabrodo di fronte a queste comunicazioni Malta ovviamente riconosce la sussistenza di un pericolo e però fa presente che possono procedere al salvataggio e poi Malta provvederà a fare sbarcare presso Malta presso una moto dove è detta maltese i 39 migranti presi a bordo in quella occasione c'è questa comunicazione Open avrebbe potuto dire no guarda che se io ora li prendo me li voglio tenere tutti e non dice nulla nulla se non che arriva una comunicazione in cui risulta che Ecco 3 che era la piccola imbarcazione vicino al barcone dichiara ma non c'è proprio acqua dentro questa barca allora visto che Malta aveva autorizzato il salvataggio perché era stato detto che c'era acqua e viene comunicato che l'acqua non c'è vuoi avvisare o non vuoi avvisare Malta? Malta non è stata avvisata e quindi viene effettuato il salvataggio viene concluso e ovviamente come d'accordi la moto vedetta maltese si dirige verso Open Arms perché si dirige verso Open Arms? perché c'era l'accordo che i 39 sarebbero dovuti essere trasbordati sulla moto vedetta maltese a questo punto il diario di bordo segnala ore 3 e 26 c'è una mail si segnala che vanno verso nord che devono spostarsi Open non aspetta la moto vedetta maltese e la moto vedetta maltese cerca disperatamente Open e chiede la posizione per effettuare lo sbarco e Open continua ad allontanarsi leggendo il diario sembra una sorta di inseguimento Malta chiede la posizione Open non la dà poi va più a destra più a sinistra più a su a un certo punto Open dichiara esplicitamente che non intende consegnare i 39 migranti nel diario di bordo c'è una lunghissima spiegazione c'è un avvocato che parla con loro viene annotato che i primi migranti si sarebbero potuti arrabbiare perché perché avrebbero detto noi siamo da più tempo a bordo se tu fai sbarcare gli ultimi 39 tutto questo è ingiusto se non che anche se in quest'aula devo dire non si sono visti abbiamo dei testimoni che ci riferiscono quello che volevano i migranti in particolare la Liguori ci riferisce che i migranti dichiararono che volevano andare a Malta e quando gli è stato chiesto ma il comandante come giustificava che non li faceva sbarcare la risposta è stata hanno detto che per cercare di calmare vista la situazione perché alcuni volevano andare a Malta è stato detto che però le procedure per quanto riguarda la protezione erano più veloci d'Italia quindi hanno 39 migranti non li danno a Malta dicono che si sarebbe creato una sorta di insurrezione viene fuori che i migranti sarebbero scesi e forse magari una cosa di cui lo Stato italiano dovrebbe essere fiero cioè siamo veloci nelle procedure in realtà è un argomento utilizzato per non farli sbarcare passiamo a un altro argomento Presidente quando lei ha una situazione di distress me lo segnala e io a questo punto passiamo a un altro argomento ci sono parti signori del Tribunale che comprenderete che non sono trattate in maniera completa e per questo ovviamente rinvio alla memoria abbiamo seguito il percorso di Open Arms in questi tre eventi per documentare la legittimità del divieto emesso dal Ministro Salvini insieme a Trenta e a Toninelli ma soprattutto abbiamo documentato il viaggio della Open Arms perché a mio avviso per capire bene quello che succede dopo bisogna capire cosa voleva Open Arms è questa la domanda che ci dobbiamo fare rispetto a questi tre eventi è impossibile ovviamente ipotizzare una competenza dell'Italia perché è una nave spagnola e in nessun momento l'Italia coordinava gli eventi alla fine del mio intervento ci sarà un intervento estremamente breve ma puntuale dell'Avvocato Colotti sulla giurisdizione quindi salto questo capitolo quello che mi interessa invece sottolineare che poco fa ho richiamato la deposizione del Teste Anedda il Teste Anedda aveva detto Open Arms Bighellona perché era in attesa del Tar ed era un profeta perché effettivamente il 14 agosto il Tar emette un provvedimento che permette a Open di entrare in acque territoriali però su questo provvedimento dobbiamo essere chiari una volta per tutte ho sentito dire che è un provvedimento che annulla il divieto di transito che di fatto boccia il provvedimento che era stato emesso allora era un provvedimento inaudito altera parte è impossibile certo leggendo se uno poi inventa si può inventare è impossibile affermare che a seguito della decisione del Tar fosse stato annullato o sospeso integralmente il provvedimento di divieto questo è impossibile è impossibile perché si limita si limita quel provvedimento a consentire l'ingresso in acque territoriali testuale al fine di garantire assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli e con un finale direi a sorpresa come del resto sembra già sia avvenuto quindi il Tar non dice è totalmente sbagliato annullato dice per adesso in attesa di discutere in attesa di discutere devi solo dare assistenza devi solo dare assistenza dico subito che in questa sede non entro nel merito del provvedimento c'era un errore in quel provvedimento perché in quel provvedimento si sostiene che lo stesso divieto prevedeva che c'era una situazione di distress e dunque il passaggio della Open non si poteva dichiarare non inoffensivo in realtà la parola di stress prego leggere la deposizione di Liguori era stata notata in base a quanto dichiarato da Open però dovrei dedicare un'ora al Tar non credo nessuno ne sarebbe particolarmente felice quindi il rinvio alla memoria sul Tar però mi preme mi preme mi preme dire che quello che c'è scritto è che l'Italia deve solo fornire assistenza non si parla di un obbligo di sbarco si parla di assistere i bisognosi riconoscendo all'Italia che lo ha già fatto e andiamo un po' di orari c'è pure un errore a mio avviso nel capo di imputazione allora intanto questo secondo me è importante per capire gli orari tenete conto i rapporti del velivolo e del sommergibile sono in fuso Zulu Zulu quindi GMT mentre Open Arms per le trascrizioni nel diario di navigazione impiega il fuso Bravo il fuso Bravo è un altro fuso perché è un fuso di due ore gli orari dei messaggi di Alarm sono in fuso Charlie più tre ore quindi quando si ricostruiscono gli eventi tenete conto di Charlie Bravo e Zulu vediamo un po' di orari intanto se si contesta al ministro Salvini il reato i reati i reati nel momento in cui a partire dal momento in cui entrano nelle acque territoriali italiane c'è poco da fare non è 14 perché il giorno è 15 è l'1.30 del 15 ed è una mail che sicuramente ha quell'orario ho controllato tutti i fusi quindi c'è poco da discutere non è 14 ma è 15 l'ora locale italiana è fuso Bravo fuso bravo alle ore 2.22 fuso bravo IMRCC comunica che non porrà di niego al ridosso alle ore 2.41 fuso bravo IMRCC comunica ad Open il nulla osta al ridosso ecco qui i due passaggi ore 3.20 fuso bravo la nave chiede l'ormeggio e arriva il POS ore 3.23 le autorità portuali di Lampedusa danno il POS in ormeggio nel diario di bordo c'è scritto POS in ormeggio chi scrive il diario che non è ovviamente l'imputato ma è una parte civile scrive POS due ore dopo l'ingresso ora nonostante l'Italia non avesse alcuna giurisdizione e nonostante i nutriti elementi dai quali emergevano sospetti di attività preordinata al sistematico trasferimento illegale di migranti ovviamente si ottempera il provvedimento del TAR facendo entrare la nave continuando a prestare assistenza e da questo momento Open è gestita secondo me non come le altre navi ONG ma molto meglio ma tanto meglio tanto consideri Presidente che a volte quando si fanno i processi è come se si mettesse da parte il quadro in cui avvengono certi eventi io vi voglio ricordare che era un momento politico particolare perché era la caduta del governo Conte e a Lampedusa ora non so quanti comunque c'erano tantissimi giornalisti c'erano una serie di politici c'era grande attenzione a quello che stava avvenendo perché era estremamente collegato con la crisi di governo e quindi Open secondo me e ora vedremo poi i documenti proprio è stata ha ricevuto un tipo di non dico di trattamento ma di attenzione superiore ad altre navi attenzione non solo alla salute Presidente io ci tengo a dirlo attenzione ai diritti tenendo conto naturalmente e si dice anche in questa sede della linea politica del governo Conte 1 che poi giusto per completezza diciamo che fu seguita anche dal governo Conte 2 la linea politica si vince dal contratto di governo che ha legato gli atti da numerosi documenti allegati al fascicolo abbiamo allegato un documento che secondo me è un po' riassuntivo perché ovviamente anche per voi diventa complicato leggere troppi atti io consiglierei per vedere qual era la linea politica in particolare di leggere un documento al quale tra l'altro tiene tantissimo il Presidente Conte che abbiamo prodotto noi a Catania l'ha prodotto lui che è il documento che gli consegnò al Consiglio europeo nel 2018 in cui si diceva l'obiettivo è superare il criterio del paese di primo arrivo chi sbarca in Italia sbarca in Europa riaffermare responsabilità solidarietà come binomio non come dualismo responsabilità comune tra stati membri su un naufraghi in mare non può ricadere tutto sui paesi di primo arrivo bisogna scindere porto sicuro di sbarco è stato competente a esaminare richieste di asilo l'obbligo di salvataggio non può diventare obbligo di processare domande per conto di tutti perché superare Dublino perché ovviamente in base al regolamento di Dublino come a tutti noto i migranti che arrivano nel territorio italiano cosiddetto stato di primo ingresso di fatto e di diritto sono considerati un problema esclusivamente dell'Italia superare Dublino perché questo forse va chiarito non significa che allora quel governo disse c'è Dublino io faccio finta che non c'è la regola e l'accordo e faccio altro perché altrimenti significherebbe anche violare un accordo se tu fai oltre quello che è previsto su questo vorrei segnalare che esiste proprio nell'ambito dell'accordo di Dublino un gruppetto di norme che sono le cosiddette deroghe che sono molto importanti perché è previsto all'articolo 17 paragrafo 2 di questo regolamento un articolo che parla di clausole discrezionali e cioè a prescindere da quello che prevede l'accordo di Berlino uno stato membro può farsi carico dei migranti richiedenti asilo su richiesta di un altro membro cosa vuol dire questo che anche se io sono stato di primo arrivo mi metto d'accordo con Francia Spagna e Ungheria e diventano obbligati questi stati Conte ha rivendicato il suo impegno a partire dal Consiglio Europeo ha parlato di un disinteresse generale da parte dell'Europa ha parlato di un braccio di ferro lunghissimo in cui lui addirittura fu costretto a bloccare i lavori perché molti paesi si disinteressavano totalmente del tema e dunque lui dice io ho capito che bisognava dare una scossa e sono riuscito a dare quella scossa perché ho fatto inserire nel Consiglio Europeo del 28 giugno dei punti che sono fondamentali in particolare in questo Consiglio d'Europa è stato inserito l'impegno di collaborazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia e un nuovo approccio allo sbarco chi viene salvato in operazioni di ricerca e soccorso deve condividere con gli altri stati le responsabilità l'impegno è quello della presa in carica di coloro che vengono salvati nel territorio dell'Unione Europea da parte di tutti gli stati membri con uno sforzo condiviso quindi sulla scorta del riconoscimento di queste istanze nazionali la gestione degli sbarchi diventa condivisa e c'è un nuovo schema operativo pur tenendo presente la tutela della salute e diritti dei migranti il nuovo schema operativo diventa quando arrivano dei migranti prima si redistribuisce e poi si fanno sbarcare i migranti perché? perché prima redistribuire e poi sbarcare? ci sono gli hot spot perché non farli sbarcare mandarli negli hot spot e poi redistribuire ce lo spiega il test Moavero milanesi all'epoca di fatti ministro degli esteri 17 maggio 2024 la linea generale del governo Conte era uno cerchiamo di favorire una modifica del regolamento di Dublino nel caso dei flussi mediterranei o centrale perché finisce di diventare tutto complesso e finisce per diventare complesso quello degli oneri conseguenti in capo all'Italia la linea subordinata era nel momento in cui si trova un accordo di redistribuzione cerchiamo per quanto possibile di ottenere la redistribuzione prima dello sbarco non dopo lo sbarco prima dello sbarco perché soltanto se lo facciamo prima il regolamento di Dublino ci permette di evitare gli oneri che sono sempre in capo all'Italia ci permette di evitare di trattare di esaminare le domande di protezione questo non lo dice Salvini lo dice Moavero quali sono gli oneri ospitare i richiedenti per mesi o a volte per anni in pendenza del procedimento amministrativo gestire i rimpatri ma questi oneri se ne aggiungono altri è previsto infatti in alcuni casi che il richiedente deve essere trattenuto in presenza di un rischio di fuga che potrebbe compromettere le determinazioni degli elementi su cui si basa la domanda di protezione quando vi sono fondati i motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico cosa vuol dire questo si tentava di superare Dublino in attesa di superare Dublino si riesce a ottenere che il consiglio dice ok mettetevi d'accordo tra voi ma è del tutto inutile fare una ridistribuzione se intanto si fanno scendere negli hot spot perché scattano gli oneri quindi si devono evitare gli oneri questa è la linea questa è la linea politica quindi non è che ora ci possiamo in qualche modo immaginare non per ridimensionare i poteri del ministro degli interni ma non è che era una linea decisa a Salvini prima a ridistribuire poi a sbarcare era la linea di quel governo e che fosse condivisa risulta da ogni atto che c'è in questo processo perché noi abbiamo prodotto una serie di atti del processo di Catania sarebbe lungo citarli tutti cito a titolo d'esempio il caso di Ciotti perché la richiesta di Post è del 17 agosto 2018 la concessione del Post è del 26 agosto 2018 quindi il tempo di ritardo sarebbe anche superiore a quello contestato attualmente in questo procedimento ma quello che mi interessa è che durante questo caso di Ciotti abbiamo prodotto questo documento c'è un una riunione a Bruxelles e c'è un resoconto di questa riunione in pieno sequestro perché era il caso di Ciotti quindi erano ancora a bordo il 24 agosto 2018 e in questo verbale risulta che l'ambasciatore Maurizio Massari che scrive anche per conto di Vitolo Vitolo tenete conto che è il consigliere dell'ufficio diplomatico della presidenza di consiglio di Conte quindi Massari è un uomo di Conte scrivono alla Belloni a Benassi a Guariglia e Baiano eccetera abbiamo aggiunto che la redistribuzione non può comprendere unicamente coloro che hanno diritto alla protezione internazionale ma debba avvenire ex ante ex ante l'uomo di Conte durante il tema diciotti con i migranti a bordo ribadisce in Europa prima si redistribuisce poi si sbarca e per il caso diciotti agli atti avete la lettera di Conte in cui dice che le allora determinazioni del ministro all'interno quindi di fare stare a bordo durante la redistribuzione i migranti per le quali è stata presentata richiesta di autorizzazione a procedere sono riconducibili a una linea politica dell'immigrazione da me condivisa come capo del governo e sempre Conte continua le azioni postinessere dal ministro che ha tenuto a bordo tantissime persone in attesa di sbarco attuano l'indirizzo da me sostenuto e coerente con la linea di governo Di Maio e Toninelli rispettivamente all'epoca vicepremiere e ministro dell'infrastruttura vanno oltre sul caso 18 depositano una memoria le determinazioni assunte nelle procedure di salvataggio sono riconducibili a una linea politica condivisa da tutto il governo il governo italiano è riuscito a ottenere coinvolgendo paesi terzi un'assunzione di responsabilità nella gestione dei flussi migratori in questa fase i suddetti membri del governo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti da Nino Toninelli in qualità di responsabile delle operazioni in mare ecco giusto vedete chi è responsabile dell'operazione in mare e il vicepresidente del consiglio di ministri Luigi Di Maio nelle vesti di capo politico hanno condiviso le modalità delle operazioni di salvataggio della Diciotti cioè non è che dice una linea hanno condiviso il salvataggio quindi quello che è successo è da imputarsi a tutti noi quindi la stessa identica cosa in una fase un po' diversa politicamente aveva avuto una certa condivisione direi non meno eloquenti le parole del ministro Moavero milanesi che rispondendo a un'intervista che ha Ghiatti gli chiedono ma le vostre idee per un'azione europea sulle migrazioni in cosa consistono e risponde che negli ultimi tempi ci sono stati degli accordi per la redistribuzione prima dello sbarco redistribuzione prima dello sbarco è uno schema condiviso dal conte 1 ma dal conte 2 giusto insomma ora non so però lo dico per chiarezza nel conte 2 il governo che viene dopo il conte 1 Salvini non faceva parte del conte 2 il testimone l'amorgese ricorda che effettivamente nel conte 2 c'era la stessa linea si dava il posso nel momento in cui c'era la certezza che si poteva condividere prima redistribuzione prima redistribuzione e poi sbarco piante dosi prima si chiudeva il preaccordo sulla distribuzione a esempio la Francia ne prende 40 la Germania 30 il Lussemburgo ovviamente il procuratore gli dice ho capito ma in caso di tempi lunghi per la redistribuzione cosa si fa nel conte 2 piante dosi e sono rimasti in mare per dei giorni a volte anche due settimane parlo anche del periodo successivo a questo quindi in che periodo chi era ministro quando stavano due settimane a bordo prima di sbarcare la morge se conte 2 testa e mancini 13 maggio 2022 le procedure che veniva seguita è la stessa che si è fatta dopo dalla richiesta di POS a quella che era l'assegnazione del POS passavano dei giorni a volte anche delle settimane c'erano sia questioni tecniche di individuazione del porto di sbarco c'erano interlocuzioni a livello credo di poter dire a livello sia di ministero all'interno ma soprattutto di presidenza del consiglio con l'unione europea con la commissione insomma per cercare di trovare un'equa distribuzione cioè voglio dire semplicemente che quello che è avvenuto con open arms era già avvenuto in precedenza e successivamente ha continuato a essere allo stesso modo quindi voglio dire non è che la richiesta di POS ottiene subito l'assegnazione passano dei giorni potevano essere due sette insomma voglio dire è sempre stato così nella sentenza passata in giudicato del giudice dell'udienza preliminare Gregoretti si riconosce quando viene ricostruita la politica di gestione dell'immigrazione che era la stessa identica politica nel conte 1 e nel conte 2 si tratta virgolettato questo di una politica condivisa dalle forze che sostengono governo conte 1 e governo conte 2 dato che i ministri degli interni interessati che si sono succeduti nel tempo hanno avuto lo stesso modus procedendi da un lato fermezza e decisa proposizione del principio in base al quale prima si redistribuiscono i naufraghi salvati e dopo si fanno sbarcare dalle navi che sono andati a soccorrerli questa è la sentenza passata in giudicato del gruppo di Catania dice che poi in udienza ci sono state delle timide precisazioni di alcuni ma dice che a prescindere dalle timide precisazioni in realtà questa era la politica agli atti troverete e però abbiamo fatto un elenco per rendere più agevole la ricostruzione la prova di tutto questo allora vi leggo alcuni casi conte 1 18 sbarco avvenuto a Catania il 26 agosto a 10 giorni dalla richiesta del 17 agosto 2018 Sea Watch 3 gennaio 19 sbarco avvenuto a Catania il 31 gennaio 2019 a 12 giorni dalla richiesta del 20 gennaio 2019 Alan Kurdi aprile 2019 sbarco avvenuto a Malta il 13 aprile 2019 a 11 giorni dalla richiesta del 3 aprile 2019 Sea Watch giugno 2019 sbarco avvenuto a Lampedusa il 29 giugno 2019 a 18 18 giorni 18 giorni dalla richiesta 12 giugno 2019 Gregoretti luglio 2019 sbarco avvenuto a Catania il 31 luglio 2019 a 5 giorni dalla richiesta il 27 luglio 2019 però questo è il conte 1 quindi Salvini conte 2 Ocean Viking sbarco avvenuto a Lampedusa il 4 settembre 2019 a 4 giorni dalla richiesta dell'11 settembre 2019 Ocean Viking settembre 2019 sbarco avvenuto a Messina il 24 settembre 2019 a 6 giorni dalla richiesta del 19 e Ocean Viking ottobre 2019 sbarco avvenuto a Pozzallo il 30 ottobre 2019 a 10 giorni dalla richiesta del 21 ottobre e attenzione Draghi Draghi Ocean Viking Agosto 2021 sbarco avvenuto a Pozzallo 11 agosto 2021 10 giorni dalla richiesta del 2 agosto 2021 Ocean Viking maggio 2022 sbarco avvenuto a Pozzallo il 6 maggio 2022 9 giorni dalla richiesta del 28 aprile Sea Watch 4 maggio 2022 sbarco avvenuto ad agosto il 17 maggio 2022 a 14 giorni dalla richiesta del 4 maggio 2022 Geo Barents maggio 2022 sbarco avvenuto agosto il 19 maggio 2022 a 8 giorni dalla richiesta del 12 maggio 2022 Geo Barents di agosto 2022 sbarco avvenuto a Taranto il 6 agosto 2022 a 10 giorni dalla richiesta del 28 luglio 2002 Open Arms Open Arms 1 agosto 2022 sbarco avvenuto a Messina il 27 agosto 2022 a 10 giorni dalla richiesta del 18 agosto 2022 Geo Barents settembre 2022 sbarco avvenuto a Taranto l'8 settembre 2022 a 10 giorni dalla richiesta del 30 agosto 2022 Humanity 1 settembre 2022 sbarco avvenuto a Taranto il 22 settembre 2022 a 16 giorni dalla richiesta del 7 novembre 2022 Geo Barents settembre 2022 sbarco avvenuto a Taranto il 30 settembre 2022 a 7 giorni per essere completi perché se no sembro di parte anche sotto il governo Meloni abbiamo uno Ocean Viking a novembre 2022 sbarco avvenuto a Tolone a 16 giorni dalla richiesta di POS credo di avere documentato che lo schema operativo fosse prima redistribuzione e poi sbarco attenzione a un tema i sostenitori dell'accusa preso atto di questo schema hanno obiettato che comunque sostanzialmente la redistribuzione era avvenuta prima era già terminata al momento dello scambio di lettere tra Conte e Salvini e che quindi i migranti avrebbero dovuto sbarcare dopo lo scambio delle lettere ricostruzione erronea in quelle lettere ora tra breve vedremo in che contesto comunque sono scritte Conte comunica una generica disponibilità di alcuni stati ma era soltanto l'inizio delle trattative c'è stato detto che è necessario ovviamente che le trattative siano chiare siano chiari quali sono i stati che assumono l'obbligo poi magari se la quota è diversa poco importa ma avere la certezza degli stati e che la trattativa fosse soltanto iniziale risulta anche dall'annotazione di Conte di uno stato che avrebbe partecipato all'accordo che poi in realtà non partecipò mai all'accordo che era la Romania quindi in realtà quel tipo di accenno che si fa agli stati che erano disponibili era soltanto l'inizio di un accordo ma non era un accordo che poteva considerarsi concluso perché è importante come ci dice la Liguori chiudere questo accordo perché poco fa parlavamo degli oneri allora gli oneri si possono traslare da uno stato all'altro solo se c'è la certezza dello stato che fa l'accoglienza se non c'è la certezza gli obblighi e gli oneri non si traslano e Tiziana Liguori che ho dimenticato di dire che era responsabile della seconda divisione del servizio immigrazione della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere all'udienza del 2 dicembre ha detto che l'importante è che poteva essere assicurata la cura delle persone ma quello che si deve capire è che quando i paesi dell'unione non davano la loro quota per la ridistribuzione non possiamo fare sbarcare non si parla né di un tempo minimo né di un tempo massimo non possiamo individuare un tempo la Romania come dicevo prima citata come stato disponibile ma la Romania in realtà non era disponibile basta leggere la mail di Biagini Andrea Ministero degli Affari Esteri all'ambasciatore Massari in cui si rileva in data 22 agosto 22 agosto niente in Romania quindi quando ci si dice che erano stati individuati gli stati per la ridistribuzione si sbaglia perché ancora il 22 agosto niente in Romania allora quando è che sono stati individuati gli stati anche se ormai erano sbarcati risulta avete la mail il 22 agosto alle ore 12 e 27 Elena Viniarska della rappresentanza della Commissione Europea in Italia scrive all'Italia che è stato raggiunto l'accordo finalmente si sa quali sono gli stati Francia 40 Germania 40 Spagna 15 Portogallo 10 Lussemburgo 3 come vedete non c'è la Romania indicata da Conte come è stato disponibile secondo l'accusa a partire dal giorno 14 agosto Salvini agì in solitudine e il Presidente Conte e gli altri Ministri non avallarono le condotte oltransiste e contrarie al diritto poste in essere da Salvini naturalmente per condotta oltransiste e contrarie al diritto intendiamo quella di Salvini di far attendere i migranti sulla Open Arms in attesa dell'accordo di redistribuzione quindi secondo l'accusa tutto quello di cui ho parlato prima cioè prima redistribuzione poi sbarco in realtà vale fino al 14 il 14 cambiò lo schema ora a parte che basterebbe vedere che poi nel Conte 2 è uguale ma lasciamo perdere questo bisogna leggere con attenzione i documenti le lettere come dicevo prima quando si parla di processo politico io sono una persona che non parla mai di processo politico perché penso che i PM sono politici il Tribunale anche se condanna qualcosa di politico processo politico si intende un'altra cosa si intende che in un contesto politico che bisogna leggere gli atti per il contesto politico e che bisogna leggere anche le finalità perseguite da Open in un contesto politico e allora le lettere del Presidente Conte è stato detto queste lettere sono lettere in cui il governo lasciava solo Salvini e allora leggiamole tutte queste lettere si collocano nella fase della crisi politica di agosto 2019 è una fase particolare perché c'era chi stava uscendo dal governo e c'era chi stava creando un altro governo e quando si creano dei governi legittimamente si lanciano dei messaggi si lanciano dei pizzini d'amore intanto all'epoca dei Whatsapp è raro trovare scambi epistolari e invece abbiamo uno scambio epistolare Conte ritiene di scrivere di suo pugno su carta mentre normalmente mi risulta che ci si manda dei messaggi o si telefona o si parla tramite gabinetti comunque il giorno 14 agosto Conte scrive a Salvini e il giorno dopo in modo più ampio manda la lettera al Corriere della Sera il che non mi sembra che sia una modalità per tenere credo riservato il colloquio più o meno il Corriere qualcuno lo legge non diciamo qualcuno tutti lo leggono per evitare allora questa lettera aperta è una lettera aperta che potete leggere tutti Conte sa perfettamente che la politica a redistribuzione prima dello sbarco ha caratterizzato il suo governo così come la linea del rigore sa però che in quel momento deve dire qualcosa perché come dicevo prima in quel momento c'era grande attenzione a quello che stava accadendo alla Open sa che la vicenda Open è al centro dell'attenzione pubblica italiana e non solo italiana sa che a Lampedusa ci sono giornalisti e tv e sa che deve intervenire ma si trova a metà del guado deve lanciare un messaggio ai futuri alleati non può tornare indietro dalla sua posizione e mentre secondo la procura prende le distanze sulla scelta di Salvini assolutamente no assolutamente no Conte in quella lettera esclude categoricamente 15 agosto che la sua volontà fosse quella di far sbarcare i migranti distingue quello che lui vuole sui presunti minori e quello che vuole sugli altri migranti come mai parla di presunti minori e non parla degli altri si era dimenticato degli altri migranti assolutamente no si stava occupando lui stesso dei migranti in quelle ore stava ancora facendo le telefonate per redistribuire prima dello sbarco ed erano appena iniziate le trattative è un momento politico particolare quando scrive la lettera aperta contesta parzialmente Salvini lo contesta solo sui minori ma soprattutto gli contesta una cosa di avergli attribuito quello che ora gli attribuiscono gli attribuisce l'accusa non è vero affatto che Conte voleva fare scendere i migranti e siccome Salvini in uno dei suoi messaggi ha detto ma qual è l'atteggiamento di Conte Conte ci tiene a dire io non sto assolutamente assumendo un atteggiamento diverso da quello che ho avuto finora io non ho assolutamente detto che devono scendere i migranti e rimprovera Salvini di voler fare passare un messaggio diverso da quella che è la vera intenzione del Presidente del Consiglio e basta leggere perché qua non è che si tratta di interpretare ti ho scritto ieri l'altro una comunicazione formale con mia enorme sorpresa ieri hai riassunto la mia posizione attribuendomi genericamente la volontà di far sbarcare i migranti a bordo cioè Conte dice guarda che devi distinguere sui minori ti dico di farli sbarcare sugli altri io sto facendo la redistribuzione quindi fin qui c'è totale adesione all'operato di Salvini anzi queste lettere sono chiaramente un'arresa di conti politici a fine governo ed è chiaro che la questione non è open se no non c'è bisogno di pubblicare sul Corriere della Sera ed è chiaro che il problema non sono i minori se no non si dedica mezzo rigo ai minori e il resto della lettera in a rivendicare tutti i successi politici in tema di flussi migratori a rivendicare la sua strategia chiaramente rivolta a far cambiare idea all'Europa attenzione le lettere vanno lette per quelle che sono è una lettera in cui da un lato si rivendicano i successi dall'altro si manda il bigliettino d'amore al PD in cui si dice guarda che io lo so contestare Salvini però in parte lo contesto solo sui minori guarda che io posso cambiare parzialmente la mia politica e attenzione nella lettera del 16 questo è ancora più evidente dall'uso dei verbi perché quando parla dei minori gli dice in questo momento fai sbarcare i minori quindi fai imperativo presente poi successivamente ti attiverai per lo sbarco dopo la ridistribuzione quindi se c'è una cosa che provano queste lettere è che sui migranti la posizione in quel momento era identica con messaggio al PD apertura naturalmente Salvini che comunque sa leggere quelle lettere affiuto politico comprende che sono lettere scritte a nuora perché suocera intenda laddove suocera è il PD comprende che è un pizzino comprende che gli critica solo parzialmente la linea politica perché Salvini ricorda perfettamente che Conte aveva presentato il decreto sicurezza bis facendosi immortalare con dei cartelloni tipo sandwich sul petto in cui si esaltava il decreto sicurezza bis ricorda perfettamente che Conte aveva rivendicato redistribuzione e solo dopo gli sbarchi e quindi risponde in punta di diritto ma attenzione questo mi sembra che non sia chiaro anche da un punto di vista questo giuridico quali sono i finali delle lettere di Salvini tutte e due le lettere scrive io la penso in questo modo da un punto di vista giuridico ma mi rimetto a te assumi le iniziative che vuoi ogni valutazione resta tua quindi Salvini che ha capito che c'è un tema politico e forse anche un tema giuridico dice ok io la penso diversamente fai tu ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio di un podcast in pretura se avete trovato interessante questo episodio vi invitiamo a mettere mi piace e a condividerlo con i vostri amici è grazie a voi che queste storie possono continuare a vivere e a raggiungere sempre più persone non dimenticate di iscrivervi al podcast per non perdere i prossimi episodi nella prossima puntata parleremo di un'altra vicenda drammatica che ha segnato profondamente la coscienza collettiva del nostro paese grazie per averci ascoltato e ricordate la memoria è un dovere di tutti noi